ciao io sono nessuno è il titolo di questo video ci tengo a ribadirlo perché spesso mi firmo in questo modo nessuno alias salvatore manzo che cos'è una nuova tecnica di marketing digitale no filosofia no modo per attirare l'attenzione no è semplicemente la realtà dei fatti non voglio utilizzare il termine verità perché non sono l'ultimo essere umano creatura vivente del pianeta terra a poter parlare di verità però sicuramente quello di cui sto prendendo consapevolezza consiste in questo tu sei nessuno io sono nessuno ma qualcuno potrebbe domandarmi chiedermi ma come ti permetti come pensi di poter affermare questo come credi di poterlo dire beh in realtà io non posso dimostrare nulla come sempre si tratta di un percorso personale di consapevolezza quando ci si immerge ci si cala come ho detto in altri video dentro di sé si manifestano delle realtà particolari delle realtà che puoi sentire nel tuo cuore e che vanno al di là di ogni logica razionalità non si possono trasformare in parole infatti io sono nessuno equivale a dire io sono tutto e tu puoi e tu puoi essere tutto solo nel momento in cui sei nessuno perché nel momento in cui ti identifichi nella maschera che porti salvatore manzo se io dicessi io sono salvatore manzo direi la più grande bugia del mondo perché io non sono salvatore manzo io sto utilizzando un corpo contenitore che è stato etichettato con salvatore manzo come si etichetta un prodotto di un supermercato ma secondo te io sono veramente salvatore manzo secondo te quell'energia che anima salvatore manzo finisce quando il corpo di salvatore manzo cesserà ad esistere a livello biologico è impossibile tutto questo se fosse così saremmo semplicemente dei robot dove nel momento in cui c'è la cessazione della materia cosiddetta o morte c'è la fine in realtà non è non ci sarà mai la fine né tantomeno ci sarà mai l'inizio è un continuo trasformarsi un continuo trasformarsi una costante impermanenza ed evoluzione o trasformazione da uno stato di coscienza ad un altro continuamente nelle più disparate forme un seme può divenire un albero un fiore un seme umano può trasformarsi e si trasforma in un bambino in un altro essere umano quindi come si può pensare che tu sei quello che pensi di essere assolutamente errato tu non sei quello che pensi di essere tu sei coscienza infinita e prenderai coscienza di chi sei man mano la tua consapevolezza aumenta all'aumentare della tua consapevolezza aumenta il tuo comprendere che sei coscienza infinita quando alcuni alchimisti nel tempo hanno formulato quella famosa frase io sono colui che si riferivano a questo non è che parlavano di un personaggio particolare io sono colui che significa che si riferivano all'essere assoluto alla coscienza pura infinita lì c'è la manifestazione del tutto poiché tu poiché noi siamo tutto in questo momento ci sentiamo magari anche separati perché ci identifichiamo con la mente egoica ci identifichiamo con il ruolo che svolgiamo da genitore nell'ambito lavorativo avvocato ingegnere operaio dipendente eccetera eccetera ma tu non sei questo veramente quelli sono ruoli fittizi temporanei che avrai finché ci sarà la vita biologica del contenitore quando poi deciderai di lasciarlo è che ti serviranno più tutte quelle cose le lascerai non ci saranno più saranno esperienze sicuramente ma c'è qualcosa di molto più grande che ti porterai dietro ed è la tua consapevolezza mai mai compromettere la tua consapevolezza con qualche motivazione fittizia che tendenzialmente fa abbassare la consapevolezza quindi se qualcuno ti dice tu sei nessuno e magari lo fa anche in un certo senso per offenderti tu non devi fare altro che ringraziarlo ringraziarlo perché ti sta dicendo una cosa straordinaria è un complimento la tua risposta sarà grazie per avermi svelato una straordinaria e importantissima verità non ti offendere non ti incazzare perché in realtà ti sta facendo un complimento ricordalo perché nella vita può capitare che qualcuno ti dica tu non sei nessuno grazie grazie per avermi svelato questo segreto o questa verità che era nascosta dentro di me e neanche me ne era accorto neanche me ne accorgevo ringrazia coloro che ti svelano le verità ok grazie